cari amiche e cari amici di barba sofia benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il corso di pedagogia oggi ci occuperemo della formazione del cittadino guerriero nella città di sparta oggi dunque ci occuperemo del modello educativo della città stato infatti nel momento in cui i regni indipendenti del modello arcaico greco tramontano nel momento in cui questi regni tramontano sorgono le città stato sorge appunto la polis e dunque la polis sorge in grecia appunto tra l'ottavo e il settimo secolo avanti cristo il sorgere della della polis porta ovviamente ad affermarsi di un nuovo modello educativo il modello educativo appunto della città della città stato e sono due i modelli di città stato dell'antica grecia addirittura platone distingue già questi due modelli di città stato abbiamo la polis guerriera abbiamo la città stato guerriera abbiamo sparta dunque da un lato e dall'altro lato abbiamo la città secondo il diritto ovvero atene dunque abbiamo due modelli di città stato la città stato secondo la forza le armi sparta la città stato secondo il diritto secondo la legge ovvero atene e il modello educativo spartano si distinguerà si differenzierà dal modello educativo formativo atenese in questa prima lezione dedicata al modello educativo della città stato ci occuperemo di sparta vedremo insieme il modello educativo appunto di sparta vedremo insieme il modello educativo del cittadino guerriero la città di sparta si sviluppa tendenzialmente nell'ottavo secolo e si sviluppa nella parte sud 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 orientale del peloponneso e in seguito alla vittoria contro messene forse anche una crisi economica che riduce le risorse a disposizione sparta si sviluppa sempre più intorno ad un modello politico culturale di stampo militare dunque una vittoria importante contro la città di messene una crisi probabilmente economico finanziaria e da qui la scelta di dare vita un modello culturale politico di tipo militare un modello che affonda dunque la radice nella tradizione la forza nell'uso delle delle armi e dunque importante questo modello perché il principale obiettivo poi di sparta è quello di di fatto controllare i popoli sottomessi e dunque un modello politico che fa della forza dell'uso delle armi un po il cuore pulsante della sua della sua identità è un'entità guerriera e sparta ha lasciato pochissime però testimonianze di sé proprio perché un modello culturale educativo guerriero non saranno le arti la letteratura la scrittura al centro di tale processo formativo e dunque sparta non ha lasciato dietro di sé molte testimonianze della propria identità appunto anche culturale della propria storia però abbiamo alcuni 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 interessanti riferimenti in storici intellettuali autori del passato ad esempio abbiamo notizie da erodoto da tucidile da senofonte e aristotele o anche da pausania e plutarco e dunque forse è difficile ricostruire con certezza il modello formativo e culturale di sparta però abbiamo delle notizie che ci permettono di produrre un quadro e questo quadro è il quadro dello stato appunto militare sparta diventa lo stereotipo dello stato militare spesso stato dipinto in modo negativo proprio da contrapporre al modello positivo culturale della legge della ragione di atene cerchiamo di capire questo modello formativo e poi come tutte le volte vi leggerò un documento una fonte per suffragare supportare quanto vi ho detto allora partiamo col dire che il modello greco spartano è un modello di arete guerriera vi dicevo ma è un modello di arete guerriera priva di individualismo prevale elemento comunitario dunque una formazione è un modello pedagogico guerriero ma non guerriero individualista non è l'eroe individuale l'onore la gloria la forza individuale ma è una educazione una rete guerriera ma di tipo comunitario ci dice plutarco nessuno era libero né doveva vivere a suo talento si aveva sempre coscienza di non appartenere a se stessi bensì alla patria si è figli della patria figli dello stato figli di figli di sparta dunque vuole il modello spartano educare i cittadini guerrieri ad amare la patria vuole educare i cittadini a vivere per la patria questo modello culturale dunque con tutte poi proprio le caratteristiche stereotipate sarà poi amato e deformato dai regimi militari dai totalitarismi dai fascisti ma anche da 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 molti amanti della forza oggi c'è l'esaltazione di sparta spesso ripeto conoscendo anche poco sparta o magari avendo visto il film sparta 300 punto tratto da da grafic 9 di frank miller ci sono molte vi ripeto stereotipizzazioni per quanto riguarda sparta dunque molti stereotipi vengono vengono appunto prodotti e dunque si è appistuto sulla forza figlio del popolo figlio della patria figlio dello stato sicuramente però questo elemento c'è è centrale non si appartiene individualmente a se stessi ma si è dentro dimensioni di stato si è dentro dimensioni di comunità di di parte dunque vengono educati ad amare la patria addirittura questa questa educazione prevede che dopo i primi sette anni i bambini e bambine bambini particolarmente tutti vengono sottratti alla famiglia dunque il modello culturale educativo è questo per i primi sette anni di vita i bambini sono con la la famiglia e dunque vengono svezzati e vengono appunto allevati dalla famiglia dall'amor familiare del madre della madre del padre ma sette anni dunque i giovanissimi età vengono tolti vengono tolti dalla famiglia vengono tolti alla famiglia vengono sottratti perché la famiglia perde perde i figli perché si entrano a far parte di gruppi di gruppi che vengono di fatto educati da dei magistrati a dei comandanti e vengono educati all'arte della guerra della sopravvivenza all'uso delle armi alla lotta al combattimento tenete conto che già alla nascita vi è una selezione si dalla nascita vi è una selezione per quanto concerne i bambini perché i bambini malati bambini disabili i bambini appunto non in buona salute venivano abbandonati dunque c'era questa pratica su cui ci sono anche poi molte dicerie leggende anche qua stereotipi però c'è questa pratica per noi barbara nel senso negativo del terreno di barbaro come che poi in senso maggiormente diffuso con la cultura romana una pratica inaccettabile per noi i bambini disabili malati di cattiva salute i bambini appunto non 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 così normodotati i bambini che non godevano di di una buona salute venivano abbandonati appunto sotto il monte taigeto sotto il monte taigeto venivano appunto abbandonati ok al monte lasciamoli e abbandoniamo e moriranno di intemperi di stenti patimenti o uccisi da 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 cani o da lupi da belve e chiaro dunque questo è il destino dei bambini non di buona salute i bambini storpi deformi non sani che non hanno buone possibilità di vita di vita sana poi fino ai sette anni rimangono i bambini presso i genitori della famiglia e poi vengono arruolati in piccoli gruppi educati da solo di magistrato che appunto lì forma all'uso delle armi all'uso dell'ordine la disciplina al combattimento educa la lotta c'è questa educazione fortemente militare però è un'educazione anche tra pari perché poi che capitano di essere poi sotto il comando di un tuo pari età o di un anno di più vecchio dunque questa idea di commilitanza di comunanza di 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 dell'essere commilitoni c'è questa struttura orizzontale nella parità appunto dell'essere dell'essere guerrieri e c'è poco spazio e chiaramente alle discipline quale la scrittura quali la lettura scusate plutarco cosa di senofonte cosa dice senofonte afferma che gli spartani sono praticamente analfabeti cioè non sanno contare non sanno leggere scrivere e platone nell'ippia maggiore ci dice che non sanno fare di conto gli spartani secondo platone non sanno contare probabilmente sono anche delle esagerazioni però a queste esagerazioni sono fide il fatto che gli spartani dono grande importanza al combattimento all'uso delle delle armi alle arti della della lotta dunque per sopravvivenza essere forti per saper usare le armi saper lottare e dunque i ragazzi venivano sottoposti a un vero e proprio addestramento addestramento militare e questo addestramento militare ha una componente poi morale e ideologica molto 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 forte i ragazzi dovevano imparare alcuni poemi magari diversi di di omero dell'eliade e l'odissea doveva dunque imparare l'eroismo i versi più eroici i passaggi delle opere omeriche che esaltavano maggiormente la forza il coraggio venivano educati moralmente all'onore alla gloria che erano i due valori principali onore gloria onore onore e gloria e c'era ovviamente anche molta molta violenza nelle relazioni interne l'onore personale e l'onore dello stato più tu sei onorabile più è onorabile lo stato acquisisce gloria chi sconfigge il nemico di sparta più ti sacrifichi più lotti per sparta più sconfiggi i nemici di sparta più sparta è potente più sparta è forte più sparta è dominante dunque tu sei più onorabile sei oggetto di maggior onore di onore e di gloria dunque è una cultura xenofoba perché la violenza contro lo straniero contro l'estraneo contro chi è nemico di sparta diverso da sparta lontano da sparta verso le sparta la violenza l'odio verso questi nemici è un elemento positivo è un elemento di onore e di gloria dunque un'educazione morale ideologica all'odio verso gli stranieri all'odio verso chiaramente i nemici un'educazione valoriale ideologica all'onore e la gloria che sono l'onore e la gloria individuale al servizio dell'onore e della gloria di sparta della città stato militare e le donne e le bambine qual è l'educazione femminile hanno comunque un'educazione fisica importante perché devono reggere un dolore molto 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 duro lancinante il dolore della maternità dunque devono essere allenate fisicamente a sopportare il dolore del parto e anche di più parti perché la buona donna spartana fa figli fa figli chiaramente per lo stato per la patria per appunto la città questo elemento non può ovviamente che non piacere a tutte le educazioni femminili tipiche gli stati fascisti patriarcali cioè la donna al servizio della patria la donna dell'angelo del focolare la donna è un vento a disposizione della patria per produrre baionette per produrre lavoratori al per per appunto lo stato la patria per appunto il regno per il popolo per per appunto l'avanzata la conquista i successi dell'impero questa visione praticamente di fatto recuperata dagli stati fascisti direttamente da sparta ok gli stati fascisti si rifanno in questo anche gli ultranazionalisti anche lo stalinismo come come stato poi alla fine nazionalista come impero come come stato appunto imperiale recupera l'idea del figlio dello stato del popolo proprio da questa idea spartana dunque un'educazione spartana militare per gli uomini fisica importante per le donne che devono fare figli per la patria per l'impero per la guerra dunque il mitico legislatore spartano licurgo ci dice la funzione importante della donna nata libera e farà dei figli le donne devono essere madri patrioti e che crescono i figli secondo gli stessi valori che da loro che da loro lo stato fra l'educazione familiare quella pubblica dovrà esistere coerenza e continuità la famiglia educa per lo stato lo stato trascina la famiglia dentro lo stesso dunque educazione familiare educazione del stato devono coincidere la famiglia educa per lo stato lo stato fa crescere le famiglie le porta dentro lo stato e dunque è una formazione statalista comunitaria non individuale dunque c'è una statalizzazione dell'educazione in sparta dunque le donne bambine donne gli uomini i bambini uomini devono essere educati dalla famiglia allo stato dai fine sette anni in famiglia dei sette anni in avanti dallo stato e nello stato devono essere educati all'onore alla gloria al servizio alla comunità alla forza al coraggio alla lotta a reggere a reggere il dolore a fare dei figli andare in combattere anche ad essere appunto acerrimi avversari tutti coloro che minacciano sparta tutti coloro che nemici tutti coloro che soltanto pensano di ridurre appunto sparta in miseria o ridurne il peso è una classica educazione della città comunque povera culturalmente povera di lettere povere di 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 arte povere di 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 letteratura di tragedia di poesia di di teatro ma anche poi di commercio e dunque una città chiusa che tende l'autarchia che si difende dunque con una educazione formazione tipicamente militare guerriera proprio perché la città che non ha molti scambi commerciali nel mediterraneo con o con la con il medio oriente con la porta verso l'oriente vi leggo un un passaggio un passaggio appunto di plutarco tratto da vite parallele i padri non avevano il diritto di allevare la prole ma dovevano portare i figli in un luogo chiamato l'esche dove sedevano i capi delle tribù per età espertissimi che sorvavano il neonato il quale si era ben fatto e di corpo robusto comandavano che fosse allevato assegnandogli una delle 9.000 famiglie se invece era malato e deforme lo mandavano alla apoteta una rupe presso il taigeto come se né per lui stesso né per la città tornasse utile tenere in vita un essere cui sin dall'inizio natura aveva negato saldezza di corpo e di salute dunque viene educato in famiglia in molti casi neanche la stessa famiglia il bambino viene sottratto dai propri genitori per essere educato ancora meglio un'idea che però Platone inserisce nella Repubblica cioè non devi essere educato bambino ai tuoi genitori perché poi saranno perché essi sarebbero appunto poco propensi a punirti poco propensi ad essere duri e severi ma sono dei mollaccioni avranno mille poi anche desideri avranno mille debolezze dunque il bambino se è sano viene affiato nella famiglia e fino ai 7 anni educato nella famiglia se è malsano verrà appunto portato alla rupe la rupe apoteta e alla rupe apoteta sarà appunto o ucciso direttamente o lasciato lì lasciato lì appunto nel monte taigeto questo è una questa usanza chiaramente durissima perché perché la natura deve dare tutta saldezza e forza se la natura è buona si può investire nell'educazione allo scopo di provare resistenza le donne lavavano i loro bambini non con l'acqua ma col vino perché se credevano che gli epilettici e i rachitici lavato col vino si indebolissero di più mentre i sani rinvigorissero e risanassero anche di più dunque tutto su di pratica e poi che non hanno un valore scientifico o medico ma che erano improntati alla forza al vigore e all'esclusione all'eliminazione dei più deboli anche qua immaginate gli esperimenti poi dei nazisti del terzo reich proprio sugli handicapati disabili che vengono usati nel fine della patria spartano e nazista i nazisti amano sparta sono due cose chiaramente diverse sono due cose diverse chiudo con ancora un passaggio di lettera apprendevano quanto era necessario ci dice plutarco ogni altro insegnamento dovendosi riferire l'obbedienza a tollerare le fatiche a vincere nelle gare dunque letteratura lettere il conto non servono di essere forti fisicamente e perciò gli esercizi erano adeguati all'età si radevano i capelli camminavano scalzi per robusti di piedi e il più delle volte giocavano i nudi anche qui per rafforzare il fisico appena compiuto il dodicesimo anno andavano senza tunica e ogni anno ricevevano un manto dormivano insieme e col cameratismo per camerate sopralletti fatti con cime di foglie di canna che coglievano con le loro mani presso l'eurota si facevano anche il loro il loro letto dunque tutte una serie di episodi di nonnismo di maschilismo di macismo presso le caserne spesso vengono coperte con l'idea siamo spartani come gridano poi nel film 300 ovviamente ovviamente gli stereotipi le mitizzazioni hanno fatto poi di sparta un modello d'anteporre ad atene dunque il modello militare guerriero contro il modello più razionale intellettuale fatto appunto le trati di commercianti di pensatori di sapienti ovviamente questi stereotipi se sono nati e perché c'è una base tendenzialmente di verità comunque c'è un punto di partenza in questo punto di partenza l'educazione chiaramente militare ed educazione guerriera dei figli da 1 7 anni presso le famiglie dei 7 anni in avanti in piccoli gruppi per diventare appunto difensori dello stato per diventare dei servitori dello stato è un'educazione statalista e come ci racconta plutarco inizia proprio con la selezione naturale un un darwinismo sociale anzi un darwinismo naturale che diventare poi in maniera raziale sociale antilitter c'è una sorta di resistenza no biologica chi resiste a queste intemperie va avanti chi è perfetto o è sano va avanti chi tende all'ottimo va avanti gli altri vengono scartati questo è il modello educativo formativo della scia di sparta un modello formativo del cittadino guerriero alla prossima lezione lezione ovviamente in cui parleremo di atene e del modello educativo atenese